La stampa 3D è una tecnologia in rapida evoluzione e si prevede che avrà un impatto significativo in molti settori, in futuro. Ad esempio, si prevede che la stampa 3D sarà utilizzata per la produzione di oggetti di uso quotidiano, come vestiti e accessori, oltre che per la creazione di edifici e infrastrutture. Inoltre, la stampa 3D potrebbe essere utilizzata per la produzione di parti di ricambio per aerei e automobili, riducendo i tempi di fermo e i costi associati. Inoltre, si prevede che la stampa 3D sarà utilizzata per la produzione di farmaci personalizzati e per la creazione di organi artificiali per il trapianto. Inoltre, la stampa 3D potrebbe essere utilizzata per aiutare a risolvere problemi di approvvigionamento di materie prime in alcune parti del mondo, creando materiali sostitutivi a partire da polveri o altre fonti di scarto. Utilizzando un software speciale per creare un semplice modello digitale 3D, la stampa tridimensionale consente di produrre una varietà di oggetti o componenti. Questa tecnologia ha conosciuto nel corso degli anni una serie di progressi rivoluzionari che hanno permesso di introdurre nelle case di numerosi utenti uno strumento molto costoso e poco comune. In molti negozi online oggi, le stampanti 3D entry-level sono effettivamente disponibili per acquisti per somme basse come uno smartphone medio, e talvolta anche per molto meno. È fondamentale innanzitutto prendere in considerazione il tipo di tecnologia impiegata dalla tua stampante e anche 3D. Sicuramente ne sono state sviluppate molte nel tempo, ognuna è in grado di utilizzare vari materiali e produrre risultati con un grado di risoluzione e dimensioni finali variabili. È imperativo posizionare la stampante in un'area ben ventilata e indossare adeguate maschere protettive perché gli studi dimostrano costantemente che durante questo processo vengono rilasciati gas contenenti nanoparticelle pericolose e inquinanti ambientali, in quantità variabili a seconda del materiale e in proporzione alla temperatura di lavorazione. Dopo che l'utente ha impostato i valori dei parametri corretti, il processo viene eseguito autonomamente dallo stampatore, che segue le istruzioni fornite nel modello 3D. Potrebbe essere necessario un supporto da utilizzare durante la stampa se sono presenti parti sporgenti. Dopo che il modello è stato stampato, puoi iniziare la fase di post-elaborazione per creare l'oggetto finito. Il primo prodotto sul mercato ad essere ampiamente utilizzato è stata la cosiddetta stampante FDM, Fused Deposition Modeling, I, E, durante la modellazione mediante deposizione fusa. In questo processo viene utilizzato un filo di materiale termoplastico, incanalato dall'estrusore nella zona di fusione, o TEND, dove viene fuso appena quanto basta estruso, e poi trasferito ad un ugello in grado di muoversi normalmente nello spazio su tre assi, X, Y e Z, per depositare la sostanza, strato dopo strato, sulla lastra di stampa. Il raffreddamento dell'oggetto stampato a contatto con l'ambiente provoca la solidificazione. La post-lavorazione dopo l'ottenimento del prodotto dipende dal materiale, ad esempio può prevedere la carteggiatura per eliminare le linee orizzontali tipiche della lavorazione a strati. Anche le stampanti in resina sono diventate più ampiamente disponibili di recente, in genere, le persone con interessi artistici e manuali, come gli artigiani gioielieri, apprezzano tali strumenti. Con i dispositivi con tecnologia SLA, DLP o LCD, l'ultimo dei quali è il più popolare tra le stampanti domestiche, la resina può essere stampata in 3D. Per ottenere un output ad alta definizione, l'LCD utilizza un display a cristalli liquidi e solo il movimento dell'asse Z. Nel 2015 sono apparse le prime stampanti alimentari commerciali. Tuttavia, non hanno ancora sviluppato la capacità di controllare autonomamente la cottura del cibo. Possono creare oggetti commestibili. Nelle cucine professionali, quindi, il cioccolato è l'ingrediente più utilizzato per le guarnizioni, anche se in quelle più all'avanguardia gli chef utilizzano anche una varietà di altri ingredienti, tra cui formaggio, patate e altre preparazioni alimentari che si induriscono. Anche chi ha familiarità con diversi programmi di modellazione 3D deve fare i conti con una serie di caratteristiche che rendono un file più o meno compatibile con una procedura di stampa 3D. Le stampanti in realtà non supportano tutti i tipi di file perché richiedono una mesh poligonale, una griglia che consente l'identificazione di oggetti spaziali e deve anche avere vertici, facce e bordi, un modello che raffigura un solido chiuso, senza superfici intersecanti. Per quanto concerne il documento G-Code, si tratta di un vero e proprio file di codice per la stampante che contiene il linguaggio di programmazione necessario per darle le istruzioni, tuttavia, non tutti gli utenti hanno accesso a questo tipo di tecnologia. Per questo è necessario un programma slicer, si consideri cura, slick 3R, idea maker, patio, flash print o simplify 3D, perché converte i file di stampa in file di codice. Solo un utente esperto potrà intervenire al suo interno per fornire indicazioni più precise, come ad esempio una variazione del riscaldamento della lastra da effettuare durante specifiche fasi di stampa. Il software slicer può essere scaricato da internet ma occasionalmente viene fornito con la stampante. La capacità di eseguire operazioni aggiuntive, come l'incisione laser su superfici e materiali di vario tipo, è un'altra caratteristica offerta da alcune stampanti 3D. Ciò aggiunge effettivamente una scelta che consente un certo risparmio sui costi da parte dell'utente creativo. La maggior parte delle stampanti 3D può essere collegata al computer tramite un normale cavo USB. Tuttavia, va notato che esistono modelli wireless che possono essere collegati tramite Wi-Fi, evitando l'ingombro e consentendo a più utenti di utilizzare la stessa stampante con la massima libertà possibile. Alcuni hanno persino app mobili che possono essere utilizzate per controllarli per una flessibilità ancora maggiore. Infine, ma non meno importante, va notato che molte stampanti 3D ora dispongono anche di uno slot per schede SD o microSD, su cui è possibile salvare i progetti da creare, evitando collegamenti diretti con il proprio computer. Consigliamo una stampante FDM per un utente che non ha mai stampato nulla e che manca di una forte manualità, potrebbero iniziare con PLA. In genere, i giocatori di ruolo, i collezionisti di action figure e gli studenti delle scuole d'arte preferiscono la stampa in resina. Sebbene la stampa 3D come la conosciamo oggi sia una tecnologia relativamente nuova, recentemente ha registrato un'incredibile accelerazione. Internet, lo studio e l'utilizzo di nuovi materiali, la diffusione di una nuova consapevolezza e di una nuova concezione del lavoro, della società e della produzione stanno proiettando questa tecnologia verso un futuro che a questo punto appare incredibilmente luminoso. Ma estremamente difficile da prevedere. In futuro le stampanti 3D potrebbero permetterci di stampare qualsiasi cosa in casa, o in tipografie specializzate o macchine in luoghi pubblici, dalle scarpe ai pezzi di ricambio per qualsiasi macchinario o attrezzatura, dagli arredi agli arredi, o anche gli arredi stessi. Se ti è piaciuto questo video clicca mi piace, lascia un commento e iscriviti al canale.